Cominciamo le conversazioni con un tema su psicologia e pittura che è lo stesso tema con cui abbiamo chiuso le conversazioni dell'anno precedente, l'anno scorso con Pollock, vi ricordate? Sì, sì, come no. Bellissima conversazione. Quest'anno prenderemo Van Gogh e la psicologia come inizio delle nostre conversazioni e anche perché noi abbiamo, come dire, un'associazione che si chiama Centro Studi di Psicologia e Letteratura dove letteratura è intesa in senso ampio, quindi tutta l'arte in relazione con la psicologia così come l'ha voluto il nostro fondatore, Aldo Garotenuto, che l'ha fondata alla fine degli anni Ottanta. Psicobiografia di un artista... Allora, ti chiedo. Sì, vediamo un attimo. Psicobiografia di un artista, Vincent Van Gogh. Due cose da notare, Vincent Van Gogh è il nome intero ma nelle sue tele non comparirà mai. Vedremo perché. Lui solo Vincent o solo V. E c'è un motivo specifico in tutto questo e non solo come ironicamente diceva lui perché Van Gogh detto alla francese veniva male, ma perché c'è un motivo ideologico molto forte. Psicobiografia è perché è quello che ci interessa. Perché ci interessa e soprattutto, se questa è psicobiografia, qual è altro modo cioè di approcciare l'arte e la pittura da un punto di vista psicologico che non sia psicobiografico e che forse per noi, come dire adesso, è un po' eccedente. Ci interessa, ma ci interessa non in maniera, così come lo intendiamo allora, esaustiva ma lo consideriamo un elemento fra gli altri. L'altro modo è la patografia, dove praticamente c'è un rapporto tra la psicologia dell'artista patologizzata e l'opera d'arte. L'opera d'arte diventa l'esempio esemplificativo, l'esempio come dire chiaro, evidente di quanto quell'individuo fosse malato. E quindi l'opera non è spiegata deterministicamente dalla biografia patologica dell'artista è quello che fa la patografia, ma quello che noi non crediamo. Ecco perché parliamo di psicobiografia. La psicobiografia, se vogliamo dirla serenamente, diciamo, e poi vedremo come la intendiamo noi, è patografia che può essere sia di tipo psichiatrico, per esempio quando dicono di Van Gogh, e sicuramente è un elemento reale, che molto di quello che ha dipinto, esempio, le esaltazioni cromatiche del giallo, derivano da una bibita, che è che lui usava, che era l'assenzio, in quel periodo il vino aveva dei problemi di produzione e anche di embargo sul vino, usavano questa bibita, che era l'assenzio, un'estratta dall'Artemisia, che aveva innanzitutto una gradazione alcolica incredibile, fortissima, ed è uno dei motivi della coincidenza della ubriacatura dell'assenzio, per esempio col taglio dell'orecchio, eccetera. Ma anche con delle distorsioni cromatiche relative al giallo e al viola, per intenderci il girasole e gli iris. Questa è la patografia psichiatrica. La patografia psicoanalitica è quella che per esempio fa Freud quando inaugura e dà l'inizio al rapporto tra psicologia analitica e arte, quando dice della omosessualità di Leonardo da Vinci e la fantasia dell'uccello e tutto il resto che già noi ben sappiamo. Quel tipo di informazioni ci interessano, non le crediamo esaustive così come le credevano loro. Questo perché, e qui è la, come dire, dizione di carotenuto che ci piace, vedremo se anche possiamo calarla in questo caso nel rapporto tra Van Gogh e la psicologia, quell'opera per essere compiuta, ha bisogno esattamente di quella vita. Punto. Basta. Non c'è una relazione di causalità deterministica tra le due. Sono due elementi che vanno entrambi presi in considerazione per definire l'universo di quell'artista. Esistono tre Van Gogh e il primo è mercante d'arte. Van Gogh non ha mai finito un corso di studi. È stato scadente di fatto e irritante. Scadente e irritante nei confronti di tutti i maestri reali, tanto quanto sarà ossigenato dal rapporto con i maestri ideali, essenzialmente tre, Rembrandt, Millet e Delacroix, ma li vedremo per tre motivi diversi. Il primo, Van Gogh, che nasce nel 1853, è mercante d'arte perché l'aveva preso lo zio proprio perché aveva toppato, diciamo così, gli studi ed era a 14 anni stato portato fuori dagli studi e diceva beh, allora fai il mercante d'arte. Lui fra l'altro, come dire, si intendeva d'arte ma gli rimproverono, porco cane, dice non riesce a vendere un quadro, consiglia sempre quello più bello e meno caro, piuttosto che quello meno bello e più caro e quindi lo cacceranno anche da lì. Tutti questi passaggi avverranno in occasioni di delusioni amorose, questo è interessantissimo, è stato in particolare il passaggio, la fine dell'interessamento e dell'attività come mercante d'arte alla Gupil, che lo porta a andare all'Aia, lo porta andare a Parigi, lo porta ad andare a Londra, avverrà in occasione dello smacco amoroso nei confronti di Ursula, una donna di cui si era innamorato e alla quale però non si confidava. Alla fine questa scocciata da questa specie di stalking dice guarda io sono già occupata, ma lui non fa problema perché prende una casa a Ramsgate vicino e ancora continua e questa impossibilità di vedere la discrepanza tra l'altro come io ti vedo e l'altro come davvero è rappresenterà da una parte la grande indole di Van Gogh nella pittura, lui avrà un'identificazione totale, la chiameremo mimesi catarchica e vedremo perché, ma la grande difficoltà, il deficit relazionale di Van Gogh nella vita sociale tanto da essere come dire indotto dal mobbing delle persone di Arles a andare dentro il manicomio, andarci da solo per propria volontà. Esiste poi il secondo Van Gogh che si fa prete ed è lo fa sulle orme del padre, ma anche lì dopo agli studi perché non gli danno la possibilità di diventare pastore protestante, alla fine non vuole studiare il latino, dice non mi interessa, ma te devi farlo, ma non mi interessa perché voglio fare altro e allora va da solo nel miniere del Borinace che è una zona del Belgio dove si dedica per più di un anno a stare con i minatori, riesce ad avere una sovvenzione da un istituto laico religioso che gli dà una casa, gli dà dei vestiti, dice no non voglio né la casa né i vestiti, va a vivere tra i minatori e questi qua dicono ma così disonori anche la nostra associazione, disonori il compito religioso missionario che ti sei dato, gli tolgono la sovvenzione, lui sta lì un anno senza neanche la sovvenzione di questi religiosi e alla fine sempre per quel passaggio amoroso con una persona che si chiama Keke, una cugina, decide di lasciare questa seconda fase diventare pittore, cosa succede? Diventa pittore, diventa pittore e cosa fa? In dieci anni, perché lui muore e suicida a 37 anni, quindi dai 27 anni ai 37 anni praticamente fa, quelli che sono rimasti 1900 dipinti e 1000 disegni e questo è uno dei più belli iniziali, in realtà ne fa 2000 disegni di cui 1000 vengono usati nelle maniere più impensate, ultimo per esempio dallo psichiatra che lo cura, che lo usa per tappezzare il manicomio nelle parti forate del tetto perché non sapeva cosa farci proprio di quei disegni, quindi in questo periodo di dieci anni fa una produzione immensa. Cosa succede però? E questo mi colpisce molto, Risa che funziona questo? Guarda un po'? Ah, ora sono autonomo, grande. Cosa succede? E naturalmente sulle diapositive non sarò come tutte su questo, ma era per iniziare, poi è fantastica questa storia, perché lui a un certo punto dipinge, è bravo e cosa succede? Va all'Aia dove c'è un zio famoso, Mahouf, che fra l'altro fa dei dipinti verissimi, molto, molto belli e lo prende proprio a benvolere perché lui è talentuoso e allora cosa fa? Gli insegna innanzitutto a dipingere, lui sapeva fare solo dei dipinti a matita e gli dà la tavolozza, prima l'olio e poi tutto il resto, ma fa di più insieme al fratello Teo, gli mette anche allo studio, lui avrebbe svoltato, di fatto a 28 anni avrebbe il suo studio, avrebbe come dire il tutor che sarebbe Mahouf e aveva anche le prime commissioni, non ce la fa, non ce la fa, è anticonformista e si boicotta in tutti i modi, prende questa signora che è una prostituta, che si chiama Sien, che non solo è prostituta, è avanti negli anni, quindi non riesce neanche più a vendere il suo corpo, quindi fa le pulizie ma ogni tanto a basso mercato continua a prostituirsi, non basta, ha un figlio, non basta, ne sta aspettando un altro, la prende da sé e fa arrabbiare tutti, fa arrabbiare il padre prete, fa arrabbiare Mahouf che gli ha detto tu sei un vizioso, basta, a te non ti do più niente, fa arrabbiare Teo che non gli invia più i soldi, ecco lui non venderà mai un quadro eccetto le vigne rosse e verrà sempre sovvenzionato fino a 37 anni dal fratello Teo e cosa succede? Lei diventa la modella, questa è Sien, fra l'altro una modella non bella, è evidente insomma, ma con cui farà dei quadri splendidi, questo è solo tristezza, qui parla inglese perché è da poco tornato da Londra, vi ricordate nel 90, fino all'80 stava a Londra, adesso sta cominciando questa prima fase che lo porta fino all'85 a stare in Olanda come pittore e comincia a fare questi disegni, ancora a matita, quindi non ha ancora appreso del tutto la lezione di Mahouf. Deve andare naturalmente a far arrabbiare tutti, è lo stesso Mahouf che gli toglie lo studio, quindi deve lasciare Sien perché il fratello minaccia di non dargli più una lira e ritorna dove? Ritorna a vivere col padre il quale ha come dire una parrocchia a Neunen in Olanda e tutti i quadri che farà adesso saranno in polemica contro la religione ufficiale del padre, guardate questo, lasciando la congregazione della chiesa riformata di Neun che era la chiesa riformata di cui il padre era pastore, ad esempio. Su questo fratto scrive delle lettere bellissime, ecco questa è la grande possibilità di seguire la via pittorica e la crescita pittorica di Vincent in parallelo con la descrizione che di quella strada da nel frattempo nell'epistole 668 inviate a Teo. C'era un campanile, questo crolla e naturalmente per lui simbolicamente il crollo del campanile della vecchia chiesa di Neunen, come dire, ci sguazza, gli pare che sia veramente il simbolo di un modo di intendere la religiosità che era una religiosità formale, che era quello che l'aveva, come dire, costretto a stare nel borinage, nelle miniere del borinage da solo e che lui veramente disprezzava, benché il sentimento del sacro, questo cercheremo di dimostrarlo, è forse l'elemento costante di tutti e tre i Van Gogh. Questo probabilmente doveva essere, ai suoi occhi, il quadro che avrebbe dovuto portarlo alla fama. In realtà ci sono alcune caratteristiche che vedete, innanzitutto, sempre per quanto riguarda la religione, lui espressamente dice nelle lettere, guardate, lui ha questi tre grandi pittori ideali, questo è come l'ultima scena di Rembrandt, però con un Cristo, come dire, personificato all'interno dei contadini, dei mangiatori di patate. L'ambiente è tetro, è claustrofobico, dismorfico, vedete queste manone, eccetera. Quando lo presenta, siamo nell'85, quindi immaginate questo periodo di cinque anni in cui lui è andato prima all'Aia dallo zio Mauve, poi è ritornato a Neunen dai genitori, poi in realtà prende una casetta dal cappellano cattolico della chiesa vicino, quindi fa arrabbiare di nuovo tutti i genitori che non me lo lascio neanche dire, continua a dipingere in questo modo, cambierà completamente nella seconda fase, quando da Van Gogh olandese diventerà il Van Gogh francese, acquisendo le caratteristiche tipiche, colore e luce, di quei pittori, essenzialmente di quei pittori impressionisti. Questo quadro è un disastro, è un disastro agli occhi del, naturalmente adesso è supervalutato, ma agli occhi della critica viene massacrato, dal mio punto di vista non ha nessun appiccio. A voi piace per esempio il mangiatore di patate? A me è moltissimo. Moltissimo, vedi? Sì, manco. Ah sì? È un'attività che mi ha colpito di più quando ho visto il suo nome. Ah sì? Ma il problema è far vedere la miseria, la distorsione, la distorsione, la distorsione, quasi somatica della miseria, che doveva essere proprio uno schiaffo. E che lui sentiva moltissimo e sentiva e in questa fase ha come ideale mille, teniamolo presente perché poi vedremo delle trasformazioni straordinarie dei quadri di mille che dipinge in questo modo, rifatti però dal Van Gogh provenzale e allora diventeranno delle cose di una, come dire? Nelle luci di questo quadro c'è una nota polemica nei confronti di il grandissimo Caravaggio, le luci caravaggesche che vengono, sì certo, vengono reinterpretate in maniera assolutamente oscura, patatosa se vogliamo dire, se è così, perché si respira quest'area. Però guardate le luci con Caravaggio, noi abbiamo i giocatori, si vede quella luce, le luci di Caravaggio sono formidabili, fondamentali e sono l'entrata sempre dello spirito sulla materia, il lavoro che Caravaggio ha fatto con le luci. Lui qua invece no, lì qui c'è la, esatto, è claustrofobbio, è chiuso e c'è un tentativo di illuminare la scena, ma non è la luce che poi noi vedremo in Caravaggio, cioè prima c'è stata in Caravaggio. Su questo quadro lui fra l'altro è stato anni, perché ha fatto per esempio questo disegno qui di donna in numerose prove precedenti, è veramente per lui doveva essere, come dire, la sua entrata nel mondo dell'arte, come dire, dalla porta principale, sarà per invece un calcio nel sedere madornale e lui si renderà conto, questo sarà una grande capacità, perché gioca poco con la luce e troverà la formula nel contatto con gli impressionisti di Parigi. Natura morta con Bibbia, appena l'ho visto ad Amsterdam, scusa se faccio questo riferimento personale Luca, l'ho mandato subito a Luca che viveva un momento di questo tipo, anche lui, luce spenta, Bibbia, chi può essere? Morte del padre, morte del padre, romanzo di Zola, la chiameremo, con un'altra usando un linguaggio di Re Calcati che si è molto interessato alla vita e alle opere di Van Gogh, supplenza simbolica, ed è detto in parole semplici questo, nei confronti del mondo non posso avere un contatto immediato, naturale, spontaneo, il mondo così come mi si presenta è senza significato, per potermene emozionare, per poterlo vivere ho bisogno di integrarlo con elementi di significato totalizzanti in cui io posso interamente dedicarmi e lui cosa dice in questo modo al papà? Papà guarda io ci ho provato con la Bibbia, però c'è una dimensione del verismo, tra l'altro il padre Theodorus di nome come Teo, come il figlio, il fratello minore di Van Gogh, come dire, odiava i romanzi veristi francesi perché immorali naturalmente, la mia via per accedere, supplenza simbolica, per accedere al mondo è un'altra, non esclude questa ma la personalizza. sembra anzi che quella del padre, pagine aperte, schiuda proprio questa possibilità, cioè quella è ancora chiusa e tocca a lui aprirla, ma quella lì è stata schiusa, quindi paradossalmente lui crea anche una continuità, cioè lui dice questo è il mio modo di identificarmi con te. Tra l'altro bellissimo questo, tra l'altro naturalmente critici su questo, non vi dico, allora lui è la Bibbia aperta proprio per dare valore all'ipotesi di Francesco sul passo di Isaia in cui si parla del figlio che salverà, quindi un figlio che non può avere il stessa sistema valoriale precedente ma deve sovvertire per salvare ed è esattamente quello che fa lui. Invece il libro di Balzac sarebbe un libro sulla disgregazione, è stato visto il titolo, mi pare che sia la gioia di vivere, è stato visto il titolo ed è sulla disgregazione della famiglia borghese di quell'epoca, quindi in realtà ci troviamo esattamente in quella dimensione archetipica di cui parlavi. Definiamo un attimo supplenza simbolica, giusto per dare una struttura anche teorica a quello che stiamo vedendo, i quadri naturalmente la fanno da padrona ma noi possiamo introdurci psicobiograficamente con qualche idea in più su questo personaggio, su queste opere, quindi si può connettere alla realtà con Luciano solo attraverso rifornimenti di senso personali e totalizzanti. Quali sono le due supplenze simboliche? La religione è come passore ma non è andata, è l'arte con tutta questa produzione ma solo se personalissimamente intesi. Stiamo quindi nell'ultimo periodo olandese, Van Gogh sente la necessità dopo quello smacco che veramente ha subito sulla propria pelle dei mangiatori di patate che non ha avuto per niente successo nonostante lo studio enorme dietro che ha fatto, di avere qualche maestro, qualche maestro reale, va ad Anversa, va al corso di pittura più importante mitteleuropeo, da questo corso più importante mitteleuropeo si farà cacciare ovviamente, perché fa così. Nel frattempo però la sua dimensione cromatica cambia, guardate Tessereo Prostituta che fra l'altro oltre a dire della dimensione cromatica dice anche ormai del viraggio che ha fatto, non cerca più donne, Ursula Chi, ma si dedica più ai bordelli e questa passione per i bordelli che condividerà con gran parte dei suoi pittori contemporanei lo porterà fino alla fine e lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni. Qui siamo ancora ad Anversa, è il periodo di Anversa, quindi sta piano piano andando via dall'Olanda, questa è simpatica, no? Perché lui fa lezioni di anatomia ma non ne può più, allora ci mette la sigaretta allo scheletro che deve fare, insomma. Sembra una gamba. Sì, sembra una gamba possibile. E comunque è divertente un Van Gogh così, non ce lo aspetteremo, invece è in mostra al Van Gogh Museum di Amsterdam. Giusto per dare un chiarimento su come ho inteso le diapositive, il titolo più ho messo il periodo secondo me è molto importante, perché ci sono un sacco di documentari eccetera che però parlano di Van Gogh e non lo mettono in relazione col periodo e con le opere di quel periodo. Per cui parlare di Van Gogh ad Anversa e magari mettere un'altra con il girasole non ha niente a che fare, perché quel Van Gogh psichicamente è completamente diverso. 85-86, mancano quattro anni alla sua morte, quindi siamo lì lì. E qui invece il museo dove è tenuto, vedremo come la questione, 200 quadri principali stanno a Amsterdam perché il patto tra Theo e Van Gogh era questo. Tu mi dai i soldi, Theo a Van Gogh e Van Gogh gli dava i quadri. Viene da 200, quando muore non hanno valore. Il fratello di Joanna, cioè della moglie di Theo dice ma per carità, ma che fai 200, bruciali, vendili, distruggili. Non lo fa, da grande imprenditrice lei creerà il mito di Van Gogh. La cognata, la cognata, Joanna. Il paio di scarpe, diciamo, credo non esista, non esista un quadro che ha ricevuto più interessi filosofici, psicoanalitici di questo. Naturalmente non è un quadro, è una serie di scarpe, è una serie di quadri sulle scarpe. Mi dite la prima caratteristica? Lussura, amici? Lussura è la povertà, è la povertà pure. Il vuoto. Il vuoto, però guardate, c'è proprio una cosa da notare subito. Quella cosa lì a destra, cos'è? Lacci, lacci. Però guardate le scarpe, guardate le scarpe. Sono due sinistre. Sono due sinistre. Sono due sinistre. Bene, Heidegger, che vide questo quadro ad Amsterdam, scrisse uno dei libri come dire, sull'arte più importanti, più criticati e che ebbero più seguito tra tutti quelli che sono stati scritti sull'arte, dicendo che questo rappresenta la trasformazione dell'oggetto in simbolo. Lui naturalmente non parla con questi termini, noi comunque ci ritroviamo con questo linguaggio. L'estrazione incandescente della cosa, dirà poi Lacan. Verrà fuori una polemica con Derrida che dirà tutto. Ma insomma su questo sono stati scritti pagine e pagine, chilometri e chilometri di pagine, su un tema che lui ha trovato interessante comprando queste scarpe al mercatino di Parigi. Dove stiamo allora? Stiamo a Parigi e vedete l'influenza? Ancora non abbiamo acquistato i colori che poi dopo vedremo e che già abbiamo in mente dimmi. No, osservavo così, adesso passiamo su questo tuo input, che secondo me c'è una doppia assenza. L'assenza del corpo che dovrebbe entrare in queste scarpe e l'assenza della destra. Cioè è raddoppiato questa significazione di ciò che è mancante e di ciò che è amputato. Volevo prendere spunto da questo per dire quanto sia vicino, dal mio punto di vista ovviamente, ma Francesco con questa osservazione, avete capito l'osservazione di Francesco? Una parte come dire che non è solo anatomica, ma è anche come dire relativa all'ogos, a tutto quello che sappiamo noi eccetera, in questo inizio di viaggio. Quanto è vicina, dicevo, la possibilità di avvicinarci dal punto di vista della psicologia a questi quadri con quello che si fa nel setting, con quello che si fa con l'interpretazione dei sogni, con quello che si fa con l'interpretazione delle fantasie. Se c'è un motivo, uno, per cui la psicologia del profondo si emoziona, ma si emoziona davvero per queste immagini e per tante altre, diciamo, di questa natura e riesce a dare un contributo utile alla loro interpretazione e perché frequenta il setting, questo è il nostro punto di vista mi sembra. Naturalmente qua parliamo, si può dire altre cose, si può dire che è un inizio di un viaggio e infatti sta andando a Parigi e si è appena trasferito dal fratello Teo, il quale gli chiede una cosa, guarda, io ti conosco, va bene, la stanza è piccola, io ho pochi soldi, faceva il mercante d'arte, alla Gupil, che era quell'agenzia di arte internazionale da cui lui era stato cacciato, ti chiedo solo una cosa e lo scrivo nella lettera, non farmi male e aggiunge e non ce l'ha fatta, no, fatti, perché poi alla fine gli ha consigliato, tanto non ne poteva più di andare in Provenza, gli ha detto guarda, allora Vincent ti prego, va a tenere, insomma, insopportabile, insopportabile e non è il periodo peggiore, questo è il punto. Oh, gli autoritratti, quegli autoritratti è un capitolo molto molto interessante, guardate l'inizio, siamo al 1885, lui si fa crescere la barba, se la fa crescere perché sta in Olanda, vive da solo di fatto, insomma, sa di andare in un centro culturale importantissimo, non ha un dente e allora si mette, come si usavano, tutti i denti di acciaio, si ne vergogna e si fa crescere la barba, vedete anche i baffi per coprirla. I colori, i colori sono ancora quelli però che stavano, in cui stava Madame Versa, vi ricordate la prostituta, un po' più addolciti rispetto al mangiatore di patate, il tratto assolutamente molto più preciso, però come dire dal punto di vista cromatico e della luce ci troviamo ancora in quell'epoca pur essendo andato lui a Parigi. Vi faccio vedere, la storia degli autoritratti è fantastica, è la progressione degli autoritratti che rappresenta una progressione di consapevolezza individuativa e professionale da parte di Van Gogh, il quale lascerà Parigi da pittore. Qui siamo nel 1887, succede una cosa strana, il fratello Teo va via, un po' perché deve lavorare, un po' perché la vicinanza con Vincent è stata una cosa tremenda e lo lascia solo per diversi mesi. Lui compra uno specchio, pensate alla psicanalisi su questo cosa può dire, e comincia a dipingere. Ma cosa fa? Prima comincia a dipingere colorando delle tele di un altro corso che aveva frequentato da Cormondo, mandavano tutti gli impressionisti, tra cui tutto l'uso track, eccetera, e che aveva lasciato, guardate caso, dopo due mesi, arrabbiato perché gli faceva fare la pittura, il dipinto dei calchi, dei nudi che lui proprio non sopportava, quindi copre quella e dipinge sopra, poi comincia a dipingere nel retro delle tele del periodo olandese, e sono 38 i dipinti che farà in tutto, poi comincia a comprare le tele per dipingere se stesso. Cosa succede alla fine? bene, questo siamo nell'87, guardate come il puntinismo degli impressionisti sta comparendo, e soprattutto la cromaticità cambia, fantastico, no? E cosa succede? Lui va via nell'88 da Parigi con questa tela, con questo autoritratto che è l'ultimo che farà lì, e cosa succede qui? Me lo dite voi? Eh, c'è la tavolozza, la prima volta che lui ha un'identità professionale, ok? Va via da Parigi che ha un'identità professionale. Autoritratti sono 35 in tutto, 28 a Parigi con quelle, soprattutto in quel periodo in cui era andato via Teo, in questo periodo dello specchio benevolo, 4 ne farà a Darl, 3 a Saint-Rémy, questo che abbiamo messo all'inizio è quello di Saint-Rémy, ce n'è un altro invece, l'ultimo proprio in cui sarà tipo camicia di forza, tristissima, ed è l'unica senza barba. Un altro tema, l'abbiamo accennato solo per ricordarci, il problema del nome, lui non si firma mai Vincent Van Gogh, lui si firma V o si firma Vincent, innanzitutto perché il suo grande maestro lo faceva, Rembrandt, si firmava Rembrandt. Poi perché lui ha una dimensione operaia, lui non è come dire, ma lo dice tantissimo, lui deve stare a toccare la terra, non ha bisogno di sorvolare sulle cose, tanto più si mette dentro, tanto più fa arte. Poi per questo motivo che noi abbiamo definito catarsimimetica, cioè la sua necessità per appropriarsi delle cose di immedesimarci, sì, e se questo in pittura gli darà la fama, nelle relazioni personali diventerà intollerante e vedremo perché. Questi sono altri ritratti, secondo me molto belli, sempre di questo periodo, quindi comincia la ritrattistica. Questo è lo zuavo, vedete il rosso e il verde lo troveremo anche nel caffè, per lui erano i colori come dire delle passioni forti, per non dire anche perverse, lo rifarà in quel caffè lì dove beveva tutte le bevande, tutto l'alcol di cui abbiamo parlato. Qui è Agostina Segatori, lei è marchigiana in realtà, ed è il caffè dove andava appunto ad ubriacarsi in quel periodo a Parigi e dove andava anche a fare le mostre, perché esistevano due tipi, due grandi classi di impressionisti, lui non è mai appartenuto a nessuna classe, però insomma stava con Gauguin e Lutrec, ed erano il petit boulevard e facevano le cose più dimesse, come dire, mostrando le loro opere all'interno del caffè di Agostina Segatori, che è stata sua amante ma poi l'ha fatta cacciare dopo un paio di giorni dal successivo amante e da quel momento lui disse che non voleva più avere a che fare con donne se non prostitute, infatti il successivo amore fu Gauguin, fu un uomo di fatto naturalmente idealista, idealizzato, però non si innamorò più di donne da dopo a Agostina Segatori. E c'erano poi i più famosi, tra cui Monet e Serrat in particolare, che invece erano il Grand Boulevard e esponevano proprio da Teo, quindi comunque lui frequentava il jazz set dell'impressionismo dell'epoca. Questa è la stessa persona, so se vi piace questo del... E' una punk antelitteram, eh? Quale dici? Punk! No! Qui dici? No, prima! No, con i capelli che ti vedi! Effettivamente, va bene. Lei era stata amante anche di altri pittori che gli hanno fatto altri quadri, qui era un po' avanti nell'età ed era appunto per poche notti l'amante anche di Vincent prima di buttarlo fuori, come gli succedeva sempre con tutte le donne. Ma immaginate un Vincent che fa Giandiro con coppie, eppure c'è, a Parigi fa questa cosa, sfruttando naturalmente la tecnica della luminosità del puntinismo degli impressionisti. Questo è considerato uno dei quadri meno belli, diciamo, a me invece piace, ma mi è piaciuto inserirlo per dire a che livello di socievolezza e forse anche di gaiezza e di sentimentalismo forse era arrivato. Qui frequentava ancora Agostina Segatori. Qui era la vista dalla stanza di Teo, che condivideva con Teo. Molto bello, mi sembra anche questo. Cosa succede? Allora, abbiamo detto che è stato a Londra quando è diventato mercante d'arte, poi è andato nel Borinace quando voleva diventare... Allora, ci siamo, ci siamo. Quindi è andato nel Borinace quando era sacerdote, a Laia quando ha cominciato a dipingere. E poi comincia un percorso alla ricerca del sole, sempre più in zone più calde, tant'è che Re Calcati, che si era interessato, l'ha paragonato a Icaro. Prima a Neunen va bene, a Anverso e a Parigi, e poi in Provenza a Darle e San Reni. Infine ritornerà a Parigi, ma qui si ucciderà. Nella supplenza simbolica, così l'abbiamo chiamata, questa, Vincent ha espresso il suo misticismo, appunto proprio in forma di ricerca della luce colore. Ed è lì, diciamo, che arriva sempre più in avanti. Oh, cosa succede? Allora, Teo non ne poteva più, va quindi via da Parigi, Teo non ne può più, dice, guarda, però si può andare in Provenza, dove c'è caldo. E invece in realtà trova tutta neve. Lui, sfruttando alcune studi che aveva fatto sul Giappone, comincia a fare delle ricerche, non più sperimentali come aveva fatto a Parigi, ma applicate alla natura. Ed è qui il pesco in fiore, che credo tutti conosciamo. Dipingerà il pesco molte altre volte, ma due importanti, diciamo. Nel 1888, sempre per Mahouf, quell'unico pittore con cui avrà riconoscenza, quello che gli aveva messo lo studio, e lui dentro ci aveva messo praticamente la prostituta, e poi per la nascita del nipote Vincent. Se si può dire, dare una definizione di questo periodo, questo è il ponte di Langlois e ne farà molte copie, possiamo dire che questo periodo, e qui il simbolismo ci aiuta veramente molto, è un periodo di unificazione di opposti, è un periodo pontificale, è un periodo, e qui c'è una figura nera che attraversa, la attraversa su un segmento, diciamo, anche sì stabile, ma comunque è mobile, è un periodo, come dire, di reversibile stabilità, ma comunque di stabilità. Dicevamo uno degli autori su cui lui si è riferito, questo Millet, guardate l'immagine del contadino e guardate la sua, quella di Van Gogh, la sua diventa una vera e propria agiografia, questo diventa un santo, allora il sole che tramonta sulla testa del contadino, il quale nel frattempo semina ma semina chicchi d'oro, è la agiografia di un santo, e guardate la differenza qualitativa, anche credo per la sensibilità di ognuno, tra l'originale di Millet, che era appunto l'autore che lui si riferiva, e la sua infinitamente più ricca dal punto di vista simbolico, siete d'accordo su questo? No? Non mi piace? Millet aveva anche la sua profondità, tra l'altro credo che fosse il periodo in cui avevano lui e la moglie, avevano perso un bambino, parli di Millet questo? Sì, e l'avevano seppellito, e quindi insomma questa immagine del seminatore al tramonto ricorda, a proposito della luce, guarda Millet ha una luce che dal fondo illumina, c'è una luce la luce invece qui in Van Gogh è pianta, non c'è una luce che crea il contrasto, che crea le ombre è una luce molto pianta, molto uniforme, se invece guardi Millet hai sulla destra uno sfondo luminoso che manda luce e che crea anche lo spessore della figura, quindi c'è un'apertura in Millet e invece in lui c'è questa... L'invasione della luce, che è diffusa e domanda Bellissimo, bellissimo, bellissimo Proprio di questo parliamo, parliamo del periodo in cui Van Gogh è invaso dalla luce e anche dall'ottimismo quasi, a volte ingenuo di questo periodo di luce la mietitura, lui assa di aver seminato, ha come dire, fatto molti corsi, ha sperimentato molto ha indagato molto su di sé, in questo periodo lui rende, fa una quantità infinita di quadri splendidi questo qua è Seminatore al tramonto il quarto di Agolo no, quello di Van Gogh Seminatore al tramonto Seminatore al tramonto io questo lo trovo fantastico questo magari è un po' più famoso rispetto all'altro ma insomma è il periodo, come dire, ricco, opulento quasi, di Van Gogh dove sarà il problema? Che a questa opulenza, a questo ottimismo non corrisponderà mai nessuna, come dire, vera relazione soprattutto dal punto di vista sociale in grado di tenerlo e vedremo perché Notte stellata su Rodano è uno dei più famosi tenetelo presente perché le farà la stessa cosa all'interno del manicomio di San Remy e vedrete come questa serenità sarà pervasa da turbulenze concentriche, ipnotiche che deformeranno la serenità di questo paesaggio quindi tenetelo presente adesso qui fra l'altro, non vi dico, ma c'è un'anedotica importante lui che si costruisce con le candele che è anche un'immagine a cui siamo abituati a vederlo rappresentato con delle candele, un cappello di paglia con delle candele per poter vedere la luminosità del cielo poi c'è chi ha studiato la posizione delle stelle e ha datato il quadro vedendo un grande carro sì, c'è un grande carro ma sfasato quindi come se avesse fatto guardato, dipinto e poi rialzato gli occhi e c'è uno spostamento quindi di luce tra un tratto e l'altro perché il cielo non è mai fermo certo quindi questa è un'altra opera su cui qui andiamo sul momento del giallo diciamo, siamo nella quarta fase quindi lui sta a Arles è andato in Provenza gli è stato suggerito dal fratello Theo un po' perché voleva disfarsi un po' perché veramente pensava che potesse fargli bene e questa è la sua stanza qui inviterà Gauguin e qua ha detto porca ogni sera ma più disordine di questo dice tutti i tubetti aperti la prima cosa che nota Gauguin queste sono le sedie e vedremo il confronto pittorico tra la sedia dove si sedeva lui e la dirà molto dirà molto della sua personalità la sedia confrontata con la sedia dove si sedeva Gauguin ci sono quadri alcuni hanno analizzato anche che tipi di quadri sono quindi insomma ogni opera ha una sua ma dove era posizionata questa stanza? era posizionata in questa dimora di cui lui era orgogliosissimo innanzitutto perché era gialla poi è stata vista che era meno gialla in realtà di quanto la dipingeva lui ma insomma lui la vedeva gialla molto dorata certo molti hanno detto che poteva essere gialla perché prendeva l'assenzio va bene poteva essere molti altri hanno detto era gialla perché cominciava a essere curato per delle crisi epilettiche e la digitalis purpurea contiene due principi attivi che sono la digossina e la digitossina che danno proprio alterazioni cromatiche allora può essere anche quello a noi ci piace pensare che può essere quello ma è anche perché il suo momento di entusiasmo con questo giallo veniva meglio rappresentato la domus aurea la domus aurea grandissima ha scoperto il cromo il giallo cromo che sono quello delle porte non è il giallo sole chiaro che ha utilizzato sulla facciata della casa anche il letto è il giallo cromo il giallo cromo è anche il tipo di impasto per farlo poi lo vedremo meglio nei girasoli c'è un tipo di impasto di giallo tant'è che lo criticavano perché consumava anche tanto colore questo è il caffè vedete che ricompaiono un po' quei colori del berretto dello zuavo poi nell'interno sarà ancora peggio qui è dove veniva a ubriacarsi in particolare dove veniva a ubriacarsi con Gauguin il quale fra l'altro viene ma sta a 60 giorni cioè scappa subito ma poi viene perché è pagato da te o dal fratello non perché Vincent era un amicone cioè gli dice guarda ti do 300 franchi e ti faccio fare una mostra perché sapete che lui organizzava mostre a Parigi ti farò fare una mostra a Parigi quindi non c'era tutta questa cosa invece Vincent la prende come dire una prova di amicizia e soprattutto come l'inizio della costituzione di un conclave diciamo così di un gruppo di artisti che avrebbe dovuto avere origine e sede proprio nella casa gialla di Arles grande illusione bello non sai mi sai dire se è giorno o è notte questo è notte? chiaramente notte no è la domanda il fondo del quadro è notte sicuramente ma la luce è quella di un pomeriggio di un giorno quindi c'è proprio il giorno e la notte mescolare che tu non riesci a fargliere mi sembra ci sono donne e bambini quindi fa pensare più a un pomeriggio vero e comunque l'ha aperto quindi questo è il caffè quindi con i colori di quello zuavo di cui parlavamo qui le passioni c'era c'era Rachele Rachele che è la prostituta sua preferita che gli verrà presa da Gauguin appena arriva gli prende la prostituta preferita qui beveva l'assenzio quindi si ubriacava eccetera questo è un altro dei miei preferiti cosa succede? allora arriva Gauguin lui si dipinge in questo modo vi ricordate gli autoritratti di prima? qui è come un bonzo giapponese allora io sono in attesa e sono compatto ho raggiunto anche un mio equilibrio tipo del ponte di Langlois e aspetto l'amico con cui costruirò un futuro radioso per la pittura in avvenire e poi ci sono tinte molto riflessive si guarda anche il taglio dell'occhio giapponesizzante si persino la cornea si ha una barba anche più pulita non è quella quella barbone di prima è una tonsura è vero è proprio una tonsura si è come un monaco è tipo un monaco è un monk bellissimo questo qui siamo nell'88 fra due anni si spara va bene oh e come aspetta Van Gogh e qui la psicologia veramente ci può aiutare tanto l'aspetta adorante come un girasole in attesa del suo sole tutto il ciclo dei girasoli è nell'attesa dell'amico dell'arrivo dell'amico Van Gogh che viene pagato dal fratello Theo quindi del Gauguin che viene pagato scusate che viene pagato dal fratello Theo come è questa cosa che viene pagato dal fratello Theo cioè dimmi fammi la domanda no spingami questa cosa allora lui allora Gauguin sta in Bretagna e sta iniziando come dire a sviluppare l'idea del primitivo quindi una sì le figure selvagge delle contadine eccetera fra l'altro ha già avuto una moglie con cinque figli che ha completamente abbandonato quindi l'anaffettivo per antonomasia ti pare che vada per affetto per amicizia a trovare ma hai provato che hai stato pagato sì sì no c'è la lettera la lettera è evidente non è così sfacciata la questione ma per sollecitarlo per invogliarlo ti dice ti do 300 franchi settimanali e ti faccio fare una mostra tra l'altro tra l'altro credo che poi Vincent a Teo avesse chiesto sempre al fratello minore di fargli da specchio no di interfacciarsi sì di fargli da specchio proprio di restituzione narcisistica in qualche modo e a quel punto lui Teo manda manda Gauguin a farlo ma c'è di più ma c'è di più e di peggio e c'è di più e di peggio si sta come dire verificando l'epilogo finale di questa vicenda si sposa Teo avrà un figlio Vincent rimane solo con la preoccupazione per di più che Teo non essendo straricco non c'ha neanche soldi da mandargli in più da lui quindi lui sta preparando qualcosa in attesa e vedremo che tutte le date a cominciare dal taglio dell'orecchio per passare al tentativi di suicidio per finire al suicidio vero e proprio avvengono in coincidenza di mancanze della presenza fantasmatica narcisistica vedremo noi poi useremo un termine del fratello Teo con cui lui vive in simbiosi questa è la serie di Gauguin e questa è forte e questa è la mia ok Gauguin ha 5 anni di più in realtà di Van Gogh è presuntuoso di fatto va lì quasi per spiegargli poi lui sta come dire si è innamorato del simbolismo quindi gli dice stai meno attento alla realtà pensa più a te e lui quindi lo tratta come un discepolo in realtà invece come dire Van Gogh ha già fatto i quadri che sappiamo però lui si dipinge con una sedia molto più dimessa una notte e questa è la prima coincidenza dopo che Teo gli ha detto che si fidanza con Johanna affronta apertamente Gauguin il quale gli risponde in un modo che sono due versioni diverse lui ritorna ritorna nella stanza gialla si taglia l'orecchio il lobo dell'orecchio sinistro non contento lo va lo impacchetta e lo porta Raquel che era quella prostituta carina che lui amava e che Gauguin gli aveva preso perché l'ha fatto prima ipotesi perché in Provenza c'era la corrida il taglio del toro era e soprattutto il lobo dell'orecchio veniva donato alla donna più bella ma in questo caso quindi lui sarebbe il toro matato e lei sarebbe la più bella prima ipotesi seconda perché lui essendo girasole in questo modo è stato ferito proprio nella parte recettiva che più era in attesa delle delle conversazioni eccetera da parte del sole Gauguin seconda ipotesi chissà forse tutto questo insieme di fatto lui si taglia l'orecchio sinistro e non ha anche mettici tutto insieme anche l'impossibilità di udire questa questa notizia che rompe il suo equilibrio quella di Teo parli no? sì certo ovviamente di fatto di fatto ci sono molte cose che poi potrebbero essere indagate con grande attenzione da questo momento lui ascolterà meno l'esterno si rifugierà in un interno sempre più come dire corvizzato i corvi sono l'elemento dominante insieme ai cipressi dell'ultima fase e finirà pazzo in manicomio dicevamo giustamente Francesco la dimensione narcisistica ideativa come io ti voglio e tu sei diverso ma io non mi adatterò mai alla diversità rispetto a come io ti voglio e questo non sarà mai capace perché la psicanalisi si è come dire sbizzarrita dicendo essenzialmente una cosa che vi riporto e vi lascio a voi come dire la possibilità di crederci e fino a quanto crederci Vincent nasce e questo gli verrà come dire ridetto per tutta la vita tanto che aveva come dire la tomba dell'altro fratello a pochi metri dalla sua stanza quando stava in Olanda nasce il giorno stesso dell'anno successivo in cui era nato morto il precedente primogenito con lo stesso nome questo fratello idealizzato dice per esempio recalcati può avere influenzato la sua tendenza a idealizzare l'altro è così ma non sappiamo se è così però con Ursula con Ke con Sien con Segatori succederà così tutte le sue donne sarà così e alla fine verrà cacciato e farà degli agiti questa è la caratteristica sua con Gaughen e la casa gialla la mutilazione lui quando subisce questa cosa fa come dire compie degli azioni che sono come dire di cambiamento totale rispetto all'altra ma così e questa è la nostra tesi invece più vicino a quello che stiamo cercando di dire è il riferimento alla dimensione relazionale simbiotica con il fratello Teo fidanzamento matrimonio con Giovanna nascita del figlio tre grosse crisi l'ultima quando lui non va a trovarlo e allora si uccide dentro la latrina latrina pubblica a Oversuruasi cos'è questo secondo voi? Gaughen che partito? reciso il girasole è reciso cambia fiore e diventa comincia è il ciclo degli iris mentre prima era il ciclo dei girasoli gli iris sono il fiore che sta all'interno del manicomio di Saint-Rémy dove viene rinchiuso perché è per una specie di mobbing fatto dalla popolazione di art che non ne può più questo sta al Gatti Museum quest'anno abbiamo visto una volta è stato il quadro più costoso del mondo questo è fantastico questo sul costo è fortissimo questo 20 milioni di euro è stato per tre anni il quadro più costoso 60 milioni di euro un quadro di Van Gogh più costoso del mondo il dottor Gachet stiamo dicendo psichiatra stupidino perché poi è quello che non gli estrae la pallottola dopo che ha tentato il suicidio quadro verosimilmente cremato con il suo proprietario miliardario giapponese che l'ha comprato qui sta all'interno di Saint-Rémy quindi allora siamo a Darl lui si taglia il lobo viene per due volte messo all'interno dell'ospedale viene vessato con una specie di mobbing dalla popolazione che non ne può proprio più delle sue extravaganze si auto si auto reclude all'interno del manicomio dove il fratello Teo gli prende un'altra stanza per poter dipingere e sta in un periodo in cui fa delle cose splendide splendide questo qua per esempio come dire è chiaro che la natura cambia tutta guardate qui non ci sono più quei gialli quindi sono praticamente delle sbarre diventano questi questi alberi la caduta delle foglie qui comincia l'insegnamento forse anche quello di Gauguin aveva visto una farfalla che la descrive tutto sulle lettere di notte la chiama pavone ma no in realtà è una farfalla e le disegno ormai sono visionarie tra l'altro è una farfalla nottina è quella con il teschio famoso è la falena la falena sì sì questo è il mio preferito in assoluto qui veramente la natura diventa dirompente rispetto al mio editore vi ricordate la mia editura di prima qui ormai sta sopra lo sovrasa con questa falcetta lui non va da nessuna parte non può che perire quel contadino lì al massimo riposarsi ma qui non gliela fa no non gliela fa proprio ecco comincia i cipressi su questo ci sono anche diverse questo è splendido guardate come diventano contorte le immagini le pennellate relative al cielo la natura non più assolutamente benevola ecco qui vi ricordate quella di prima su Rodano ecco come diventa lui dipinge da dentro come dire la stanza ed è completamente diversa è completamente come dire turbolenta tra l'altro è come se vedesse il movimento degli astri quando si si traccia veramente con le foto e con il computer sentite dietro un pochino ok prego si vedono questi movimenti analoghi cioè come se lui arrivasse a un livello di ultra percezione si assolutamente io lo trovo fantastico questo periodo secondo me è il più alto qui fa e ritorniamo al discorso religioso e qui chiudiamo le prime come dire disegni evangelici ispirandosi guarda caso ai suoi maestri avevamo detto mille per quanto riguarda i contadini della crua per quanto riguarda i disegni diciamo evangelici questa è la pietà neotestamentare la pietà e indovinate chi è questo è lui è evidente lui sta sta perdendo piano piano sempre più consapevolezza sempre più le forze e sempre più nello stato di abbandono qui è il buon samaritano questo è l'originale della crua e questo è il suo anche qui secondo me vince vince Van Gogh però su questo o no su della crua su della crua che dite qui forse pari ma guarda c'è un capovolgimento la figura che guarda verso destra è anche nell'altro qui guarda verso sinistra anche nell'altro c'è un capovolgimento della scena vediamo un po' anche nell'altro anche in quello prima vediamo un attimo ok sì vero vero interessante la testa della madre della donna che lo accoglie guarda da un lato e lui la fa dal lato opposto l'unica chiesa che disegna diciamo in cui qualcuno va perché tutto il resto delle chiese le gente fugge vi ricordate lasciando la chiesa eccetera è la chiesa di Hauvert dove è l'ultima tappa allora lui è stato a Saint-Rémy prima è stato ad Arles poi è andato a Saint-Rémy nel manicomio non ce la fa proprio più non ce la fa più va dal fratello Teo che nel frattempo a Parigi ha avuto il piccolo Vincent Teo chiaramente ti do i soldi però guarda proprio a Parigi perché sono piccoli non ci entriamo proprio ti metto a 20 chilometri da Parigi a Ovest così ti posso ti posso venire a trovare lui disegna e qui anche i critici hanno detto ma sarà un ritorno alla religione ufficiale o come dire la necessità la necessità di qualcuno oppure alcuni hanno detto ricordatevi che dietro a ogni chiesa c'è il cimitero chi usava allora è un avvicinamento al cimitero forse la chiesa come tempio la chiesa o come dire tempio e guarda il colore il colore del cielo è più uniforme il colore delle vetrate è uguale al colore del cielo allora è un colore che rappresenta la spiritualità un recupero un tentativo che rimane sullo sfondo chiaramente e lo utilizza anche per esempio nel margine della strada lo utilizza un po' all'interno dei verdi e dei gialli che usa per la strada ma lì c'è questa è come se questo cielo in cui gli astri si muovevano si fosse pacificato tranquillizzato o come dire mortificato o pure mortificato questo aspetto questo aspetto di Luciano è importantissimo lo vedremo esasperato negli ultimi quadri siamo alla fine in cui diventa la pittura quasi bidimensionale non c'è più come dire prospettiva non c'è più movimento e poi c'è quasi un ondulare della struttura cioè è una struttura parkinsoniana quasi come tecnica la strada è fatta con la puntinatura il cielo recupera la pennellata o la spatola è diverso insomma c'è questa oh lo sfortunato dottor Gachet questo è la digitalis che gli veniva dato per l'epilessia che quando si ammazza dentro la latrina in occasione della non venuta diciamo di Teo che doveva andare con la famiglia lui l'aveva visitato poco prima era andato a vedere Vincent per la prima volta il nipotino dice oggi proprio non posso venire vengo la prossima volta lui prende una pistola che aveva chiesto al contadino per allontanare i corvi perché lì era vicino Parigi e anche qui psicologicamente mi sembra che il Vincent infestato da corvi ci dà molte immagini va dentro questa latrina si mette dentro la latrina pubblica quindi si immerge nella cacca e si spara in basso ma non muore non muore quindi aspetta lì e poi dopo va alla stanza va dentro la stanza e là si accorgono che gronda sangue e cacca perché praticamente male odore arriva a Gachet e che invece di portarlo in ospedale sta lì con lui e chiama Teo quindi praticamente passa una notte e mezzo fumando non vedevano l'ora non vedevano l'ora non vedevano questo era mi pare il quarto tentativo di suicidio aveva preso aveva mangiato i tubetti aveva preso la trielina l'aveva fatta di tutte e veramente non vedevano l'ora e lui parla questo Gachet eccetera tra parentesi sono le lettere è fantastico è un inciso scusate se mi allungo ma è divertentissimo quando Vincent parla del Gachet ma lui è più matto di me cioè la fraterna ma non mi curerà mai si non mi curerà mai questo è il mandorlo in fiore che porta siamo nel 1890 al fratello al fratello Teo in occasione della nascita di Vincent ed è chiaramente come dire riepirogativo penso sembra non farfalle e qui è il periodo e qui do ragione a Luciano bidimensionale qui veramente è un'altra pittura qui cos'è surrealista sembra sai che sembra anche molto il naif quasi del di Rousseau ah del doganiere del doganiere Rousseau sai molto questo a me si sono però questa è una citazione faccia perché ma guardate che il prossimo numero della rivista uscirà con un quadro di Cir che sempre ci dà i suoi quadri e noi abbiamo scelto delle figure guardatela attentamente riguardiamo la foto e c'è una somiglianza incredibile tenete a mente e soprattutto comprate la rivista questo è il messaggio è chiaro allora radice e tronchi d'albero quindi la critica si disputa uno di questi ultimi tre quadri che vi farò vedere per dire qual è l'ultimo radice e tronchi d'albero qui veramente non c'è più figura campo di grano sotto un cielo nuvoloso campo di grano tranquillo della mia titura non c'è più e questo è quello che anche nel film viene fatto vedere campo di grano con corvi dopo di questo si uccide quadri clinici è stato detto che alcuni psichiatri hanno detto che la posizione principale è una posizione malinconica depressiva altri hanno detto maniaco depressiva psicosi tendenzialmente per i tedesti Jasper ha fatto una splendida introduzione alle lettere parla di Vincent come psicotico epilessia soprattutto ai francesi Gacela va curato abbiamo visto con la Digitalis per noi e qui veramente chiudo il sentimento del sacro è quello che domina domina tutte e tre Van Gogh e lo domina potentemente la supplenza simbolica la possibilità di incontrare la realtà attraverso delle strutture che siano religione o arte che siano personalissimamente intese la catarsi mimetica io con l'altro con l'oggetto ho una fusionalità che è l'unica che mi permette di dar senso pensiamo alle scarpe pensiamo ai girasoli pensiamo agli iris pensiamo ai cipresi agli olivi eccetera dal punto di vista relazionale qui Francesco ha ragione l'idealizzazione narcisistico fantasmatica come è successo con Gauguin come è successo con le donne è quello che evidentemente l'ha sempre fregato questa è l'unica immagine da grande a mio avviso e avviso di molti un falso dicevamo con Gilles che distinguere il vero Gauguin da tutto quello che c'è stato dopo mercato dell'arte compreso quegli 80 milioni per il dottor Gasset o i venti dell'Iris veramente è difficile e qui mi è sembrato come dire giusto metterlo questo è il periodo manicomiale con cui abbiamo iniziato e questo è il falso come dire il vero Van Gogh come dire è molto più disperato c'è qualcosa e qual è il filo conduttore secondo me nella lettera a te o le t è l'indicazione acronimo che si usa la 195 è la 195 di quelle 668 che sono state radunate dalla cognata Joanna cercate di comprendere l'ultima parola di quel che dicono nei loro capolavori i grandi artisti non solo pittori perché lui aveva in mente i romanzi francesi aveva in mente Shakespeare aveva in mente anche libri di religione lui è un grande studioso l'imitazione di Cristo aveva in mente gli storici Michelet con cui studiava la rivoluzione francese nei loro capolavori i grandi artisti là dentro sarà Dio c'è qualcosa che ci riguarda profondamente questo credo che sia la sua lezione e grazie dell'attenzione bravo